Oggi affrontiamo il classico esercizio dell'automazione con i PLC, quindi il motore con l'auto ritenuta con i due tasti start e stop, solo che non lo faremo solo con Easy PLC ma lo simuleremo, andremo all'interno di una fabbrica virtuale, metteremo un'asta trasportatore col motore, metteremo due pulsanti e vedremo di controllarlo con il nostro PLC virtuale. Iniziamo subito. Negli ultimi video abbiamo visto una serie di elementi elementari utilizzati in Easy PLC, oggi vediamo un classico schema che è quello del motore, lo start-stop del motore con l'auto ritenuta, quindi abbiamo solitamente un ladder fatto in questo modo, abbiamo un pulsante che è start, questo è collegato a un altro pulsante che sarà lo stop, quindi lo stop qui lo disegniamo così, ok, quindi useremo un pulsante normalmente aperto, inverto il segnale e poi qua comanderemo il motore, metto MOT che sta per motore, qui sotto abbiamo un'altra bobina, questa è legata alla variabile MOT e si collega qui, quindi questo qui è proprio uno dei classici, no? lo schema elettrico lo possiamo disegnare qua, quindi abbiamo il nostro PLC, abbiamo il pulsante di start, quindi questo è normalmente aperto e si collega qua, quindi questo qui è lo start, lo metteremo su 0.0, quindi I0.0, poi abbiamo lo stop, anche questo lo faccio normalmente aperto, anche se poi abbiamo visto sarebbe meglio metterlo normalmente chiuso, eccetera, eccetera, a noi serve solo per vedere il funzionamento, quindi va sull'ingresso I0.1, quindi avremo poi un'uscita O0.0 che è collegata a un motore, ovviamente tramite quello che è necessario, probabilmente ci sarà un releo o un teleruttore che fa azionare il motore. Per far partire il motore cosa devo fare? Devo pigiare start, pigiando start, premo il tasto, vado a mettere un 1 nel registro d'ingresso, quindi questo contatto viene visto come chiuso, qui ho il pulsante di stop, qui viene letto al contrario, questo qui è aperto, quindi c'è 0, la bobina con la barra fa sì che lo 0 che vedo qui sia letto al contrario, cioè se fosse viene visto true e quindi arriva corrente al motore, cioè attivo il motore, arriva corrente nel senso la corrente virtuale all'interno del ladder, no? E quindi il motore diventa true, vale 1. Scendo per lavorare la riga successiva, qui trovo questo contatto legato alla variabile motore che vale 1 e quindi questo diciamo autosostiene il motore, quindi finché non premo stop e interrompo questo ciclo, il motore sarà acceso. Andiamo a vedere come realizzarlo con il nostro Easy PLC. Ma questa volta, invece che partire subito con Easy PLC, lo parcheggiamo giù un attimo e lanciamo l'ambiente Machine Simulator. Dentro Machine Simulator possiamo andare su Machine, abbiamo una serie di macchine già pronte e possiamo crearne una. Andiamo su Editor, prendo il primo tipo, faccio start, aspettiamo che venga preparata. Diamo un nome alla macchina, troviamo qui a destra le proprietà generali, le potete anche selezionare cliccando qui se lo perdete. Qui c'è il nome della macchina, facciamo motore start stop, questo è il nome, qui potete mettere autore e descrizione, lasciamo tutto così, ora componiamolo. Allora, clicchiamo qua in mezzo, cerchiamo qualcosa che possa avere un motore, non penso ci sia un motore singolo, ci sono per esempio le parti di trasporto, queste qua sono varie sezioni di nastri, prendiamo il primo, clicco sopra e lo metto qua. Qui abbiamo il nostro nastro trasportatore, cerco di ruotare intorno, tengo premuto alt, riesco a ruotare, vedete che c'è un motore sotto e questo è quello che ci interessa. Cliccandoci sopra accediamo alle sue proprietà, qui vedete che abbiamo una serie di PLC, connessioni col PLC, abbiamo per esempio l'advance, advance è il comando che lo fa partire. Apro questa tendina con questi tre pulsanti, qui posso scegliere a che uscita del PLC collegarlo. Colleghiamo all'uscita 0, quindi è stato collegato e con questo possiamo comandarlo. Lascio tutto così, ora cerchiamo dei pulsanti che ci serviranno per fare lo start e lo stop. Abbiamo una sezione button e switch, abbiamo per esempio questo press button, seleziono, ne mettiamo uno qua, è un po' piccolino, vediamo di andare un po' più vicino. La parte più complicata è muoversi qui dentro, ma se voi giocate con videogiochi siete sicuramente più bravi di me. Allora seleziono, seleziono qui in alto, rotation gizmo, clicco sul pulsante e posso ruotarlo. Quindi lo giro, speriamo di averlo ruotato correttamente, probabilmente possiamo anche dargli la rotazione, possiamo specificarne in modo preciso qua. Se qua gli mettiamo 90, siamo sicuri che lo ruotiamo esattamente di 90 gradi, perfetto. Ora lo possiamo spostare, quindi clicco su position gizmo qui in alto e lo possiamo spostare, anche se potete anche benissimo lasciarlo così com'è, ok? Cioè appeso nell'aria nessuno si offende, però se volete fare le cose un pochino più belle, conviene cercare di posizionarlo per montare un po' l'impianto come vi piace, insomma come più simile possibile alla realtà. Ok, quindi cerchiamo di metterlo qua sulla gamba più o meno. Quindi questo qui è il nostro pulsante, lo sposto ancora un pochino trascinando le frecce. Se lo seleziono, vedete che ho PLC IN, questo qui ci permette di collegarlo al PLC a un ingresso. Allora clicco sul pulsantino, prendo input 0 e quindi ricordiamoci questo è il pulsante di start. Ne vado ad aggiungere un altro, quindi clicco qua su press button sulla parte di sinistra, ecco qui l'altro pulsante, lo ruotiamo anche lui, clicco sulla colonna, metto 90, che me lo ruota, perfetto. Vediamo se riesco a scegliere il colore, abbiamo button color, mettiamolo rosso, ok l'abbiamo messo rosso e anche per lui possiamo provare a spostarlo e avvicinarlo un po' alla gamba del nostro nastro trasportatore. Questo non abbiamo collegato a nulla, quindi seleziono anche per lui il pulsante PLC IN, lo colleghiamo all'input 1. Ok, ora sono tutti a posto, se vogliamo rimettere a posto questo qui lo spostiamo, lo mettiamo qua, facciamo file, salviamo il tutto, andiamo qua sotto tools, ho view hide IO list, apro, qui vedete l'elenco degli ingressi usciti e faccio export. Posso fare file, save, salviamolo ancora per sicurezza, poi faccio exit. Usciamo sul menu principale, questo possiamo parcheggiarlo. Prendiamo Easy PLC, creiamo un nuovo progetto, scelgo Machine Simulator, faccio accetta, mi chiederà se voglio caricare le variabili da un file, diciamo di sì, e andiamo a cercare la cartella, quindi vi apre già quella giusta dove ci sono le simulazioni, qui andiamo a cercare il file che abbiamo esportato, che si chiama motore start stop, eccolo qua, .mac, lo apriamo, vengono importate le variabili, andiamo nella parte soft, qui abbiamo le variabili che sono già impostate, troviamo i vari ingressi e le uscite. Hanno dei nomi un pochino terribili, li lasciamo così, anche se si potrebbero rinominare. Andiamo sulla parte di codice, tasto destro, aggiungi sequenza, lasciamo il nome così, il ladder va benissimo, componiamo la sequenza che abbiamo visto, quindi mettiamo un contatto, questo lo colleghiamo al pulsante ON, quindi è il primo che abbiamo qui, poi di fianco mettiamo un contatto normalmente chiuso, lo colleghiamo all'altro pulsante, quindi il 3 ON, eccolo qua, poi a destra aggiungiamo la bobina, questa è quella che fa riferimento al motore, quindi scendiamo, ecco qua, abbiamo Conveyor Belt, ci mettiamo qui sotto, aggiungiamo un altro contatto, questo qui fa riferimento al motore, come abbiamo visto, quindi scendo, 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 Conveyor Belt, lo colleghiamo, e poi qui dobbiamo collegarci qui sopra, quindi clicco la freccia verso l'alto per creare il collegamento. Allora, salviamo il progetto, me lo salva nella stessa cartella, lasciamolo qui, lo chiamiamo, motore, start, stop, trattino, facciamo l'adder, faccio salva, lo compilo, facciamo compile and send, lo mandiamo al plc, torniamo nell'ambiente di simulazione, andiamo a prendere le nostre macchine, nella sezione macchine dovrai trovare anche il nostro motore, motore start, off, eccolo qua, facciamo start, viene caricato, questo è il nostro macchinario, apriamo bene la finestra, altrimenti non si vede, il plc è fermo, facciamo start, mentre parte si avvia, possiamo cambiare l'impostazione visuale, vedete che adesso è verde, quindi è partito, premo alt, cerco di posizionarmi in modo migliore possibile, ci sono vari modi per muoversi, ok, avviciniamoci un pochino, ok, vado in prima persona, clicco su start, vedete che parte il nastro, ora scendo, clicchiamo su stop, e il nastro si ferma, start parte, e stop si ferma. Bene, per oggi è tutto, avete visto, io non sono bravissimo nel comporre gli impianti virtuali, però basta un po' di pazienza, li mettete lì come se fossero reali, e potete sperimentare veramente, quindi è molto interessante, si possono provare cose che in laboratorio dovete inventarvi con dei led o altre cose, insomma. Questa suite di software ha delle potenzialità veramente interessanti. Bene, per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!